E' la buva, non ci voleva stamattina sai cosa Pronti Carabinieri, comandi? Qui pattuglia numero 5, sono col collega Cassino qua, veramente il Cassino Mai successo una cosa del genere Che è successo? In proprio parole siamo entrati in macchina E ci siamo accorgati che ci hanno freccato il volante Tutto il cruscotto I pedali, puri pedali, i pedali Manco i pedali stanno L'acceleratore e i freni, tutti mi hanno freccato L'acceleratore, il freno e la frenza non ci stanno proprio Manco freni a mano stanno, tutti stanno Proprio sai, il lavoro fatto di classe proprio Beh, mi piace, aiutate, venite qua e venite a prendere Che non è che potete rimanere da qui Si, va bene, arriviamo subito Va bene, comando, ciao Non c'è più religione, non si fredda la macchina Se frega nel cruscotto Ehm... Spato Puoi provare a chiamare? Evitiamo che venga Eh Ma mi saldiamo di salvabile Palletto 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 Pronto, fatti fretta Sono il maresciallo De Santi Sto col collega Sardella Niente, abbiamo chiamato Abbiamo chiamato prima Diciamo che ci avevano freccato tutto dalla macchina Il volante, il freno a mansterza Eh, niente, potete pur non venire Vogliamo, diciamo, tranquillizzare Non venite Perché? Eh sì, no, perché ci siamo accorti Che ci siamo seduti dietro Ci seduti dietro? Eh? E state conti? No, perché ci siamo accorti dietro? No, perché ci siamo accorti dietro? Grazie.